ciao ragazzi come state spero bene eccomi qua in un altro video uff che fiatone che mamma mia vabbè allora si è vero che ho detto che facciamo altre cose ma questa volta voglio vedere ci sono tanti altri video e questo video vuole essere sia per youtube che per altri social se riesco a caricarlo non l'ho detto però posso caricarne anche volendo un altro per tiktok quindi andatemi seguire su tiktok direttamente e che dire questo video è fatto con la telecamera posteriore perché si poteva meglio si capisce bene cosa sto facendo e dicendo che dire sono contenta che finalmente sto riuscendo a registrare più video aspettate che voglio controllare se la batteria si la batteria a posto sì perché l'ho messo in carica però nel frattempo voglio che allora oltre con l'appoggiato in mille scatole e quindi speriamo che regga e nulla già vi ho detto che in precedenza tante cose che non sto qua a ripetervi però in confronto a questo lo voglio anche dirvi semplicemente che oggi è stata una bella giornata non so quanti video lo dirò e sono contenta perché sono finalmente uscita di casa e sono riuscita a fare più passeggiate in tutte tutte quante in tutte queste giornate vabbè più camminate dai in questa giornata poi ho fatto il l'altro video ma chi non lo aveste visto di chi non vedrà il video stasera o domani lo vedrà casomai non lo so quando volete voi non so quando guardate i miei video ma spero che li guardiate perché mi piace a me fare video anche anche quelli che non mi piacciono a voi tipo dove che ne so faccio video di reaction video di trucco per esempio perché dove mi trucco sono abbastanza criticata ma va bene lo stesso non me le faccio una colpa perché anche se non mi so truccare a me non me ne controllo che è meglio sto per dire una brutta cosa però non me ne frega niente ecco qua non me ne frega niente se mi dite che non mi so truccare non mi so truccare pazienza mi fa strocchio la faccia ma almeno qualcosa ce l'ho in faccia per tanto per capirci perché a me piace a me piace truccarmi a me non si diceva comunque ci siamo capiti a me piace truccarmi e quindi mi trucco comunque niente ragazze stamattina mi ha messo un bel po di di profumo molto buono non ce l'ho qua portato di mano ma ve lo faccio vedere ma male che carico altri video vabbè potete anche in questo video ma è lo stesso dell'altra volta si tirate intorno anzi vi linko o di qua o sotto il video nella descrizione insomma di questo video il video in cui vi parlo del profumo che mi piace tanto a me tra i miei preferiti ok perché sta diventando un profumo bellissimo sì lo so sono vestita gli stessi nei stessi come dire con lo stesso abbia mente prima perché sto registrando il video di seguito tra poco devo andare a mangiare quindi mi devo anche sbrigare nulla scusate vado a controllare si sta registrando perché non vorrei mai che io ci sta registrando ok perfetto allora io adesso vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e perché no se mi va seguitemi in altri social come instagram tiktok e anche facebook non vi metto nulla nella descrizione di questo video perché tanto lo so che non mi seguite o mi guardate intanto per vabbè lasciamo un petro che è meglio e basta a presto ciao tanto guarda quanto si ammesso quando chiudo il video ciao allora eccoci ragazzi questo è il profumo che stavo dicendo prima io e niente questo è il profumo che mi piace da prima e poi c'è anche questo qua il petto primario sarebbe questo qua che non di schiena che prendere bene quindi questo qua il petto primario a queste con le secondarie per facendo la scatola eccoci qua vedete e allora questo è il profumo che mi metto quasi quasi tutte le mattine e tra l'altro cito la mia cara amica e simpaticissima rita cosmetica un bacio e nulla se questo video vi piace appunto mettete un like nel supporto iscrivetevi al canale e attivate la campanella comunque questo qua è uno dei profumi che stiamo intanto il mio must have troppo bello adoro bellissimo mi piace davvero tanto complementi troppo bello adoro ciao questo è il mio profumo preferito ciao